Un saluto dalla redazione del Gereasi in studio Marco Paganelli. Apriamo con la cronaca un vasto incendio è divampato ieri in un capannone nel Pavese. Continuano a bruciare in queste ore plastica pneumatici e altri materiali di scarto. Il vento sta spingendo l'alta colonna di fumo che si è sprigionata in direzione dell'Odigiano. I sindaci del territorio raccomandano di non uscire di casa se non è strettamente necessario e di non aprire le finestre. Le indagini in corso non escludono che l'accaduto sia di natura dolosa. Siamo in allarme per la nube, ovviamente tossica, visto che stanno bruciando pneumatici e plastica, ha detto il sindaco d'Inverno e Monte Leone Enrico Vignati. La prefettura ha invitato la popolazione a farsi visitare nel caso in cui riscontrasse infiammazioni. I sacchetti bio sarà possibile portarseli da casa solo se nuovi. E l'interpretazione che darà il Ministero della Salute nei prossimi giorni? Le norme igienico-sanitarie non cambiano. Lo ha chiarito il Ministro dell'Ambiente Galletti in un'intervista. Io, ha sottolineato, rivendico la bontà del provvedimento ambientale. Ho fatto una scelta chiara e trasparente per evitare abusi. Oggi il consumatore sa quanto paga tra 1 e 2 centesimi, cifra irrisoria in un anno. Passiamo agli esteri. La Corea del Nord non sembra stia preparando un nuovo lancio missilistico. Lo ha detto il portavoce dello Stato Maggiore della Corea del Sud. Ai giornalisti ha smentito così alcune voci su un possibile nuovo test delle regime di Pyongyang. Quest'ultimo ha ripreso da ieri dopo due anni i contatti con Seoul e discuterà l'eventuale partecipazione degli atleti nordcoreani alle prossime Olimpiadi che si svolgeranno in Corea del Sud. Israele ha risposto al lancio di tre razzi da Gaza con un raid aereo che ha colpito un'importante installazione terroristica. Le nostre forze armate, ha precisato un portavoce militare, continueranno a fare uso di tutti i mezzi a loro disposizione per sventare gli attacchi contro i cittadini, ha assicurato. Queste tensioni si inseriscono nella nuova escalation, nella zona emersa dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale israeliana. La Borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta del 2018 in aumento del 3,26% a 23.506,33 punti. Si tratta del livello più alto dal gennaio 1992. E chiudiamo con lo sport calcio. La Juventus è la quarta e ultima semifinalista di Coppa Italia, battuto 2-0 il Torino nel derby giocato ieri sera all'Allianz Stadium del capoluogo piemontese. Gola al quindicesimo minuto di Costa e al sessantasettesimo di Mandzukic. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.